Buonasera, buonasera, oggi sono qui a fare questo video di mattina, sono stanchissimo per dirvi un paio di cose innanzitutto si sono stato assente praticamente un mese da youtube e penso che su youtube youtube ci rimarrò un po' di tempo senza fare video e oggi è un video un po' così per dirvi che appunto cambio piattaforma insomma su cui fare le mie creazioni facciamo, andrò su twitch, mi sono già spostato, ho già fatto un po' di live e quindi nulla ho deciso di dirvi questo dato che mi è arrivata la fibra e quindi comincio a fare live su twitch metti a fuoco, grazie e nulla ho cominciato a fare live su twitch e continuerò lì questo canale verrà usato per caricare ogni giorno le live che farò ogni live che farò verrà caricata anche su youtube quindi se volete vedere la replica potete venire tranquillamente su youtube non so come verrà perché ancora non l'ho provato e nulla ci saranno, non lascerò per sempre youtube arrivederci diciamo perché continuerò comunque a fare video su youtube ogni tanto ogni tanto video veri, ogni tanto caricherò appunto le live e nulla questo qua è un annuncio breve, brevissimo trovate il link del canale di twitch sotto in descrizione come al solito, anzi non c'è mai stato twitch e nulla se non riuscite ad entrare nel link il mio nome su twitch è expiron live, la e di expiron e la l di live sono in maiuscolo e nulla è questo quello che volevo dire su twitch diciamo che ho trovato più tempo dato che avvio la live basta faccio tutto quello che faccio ogni giorno e nulla se vediamo se vediamo un altro giorno è bella ricordatevi di seguirmi su twitch sono in live dalle 4 e mezza alle 7 praticamente tutti i giorni è bella non è bella